Più di 200 milioni distribuiti, il 64% della ricchezza che Estra ha prodotto nel 2017 è andato ai territori nei quali opera, dalla Toscana alle Marche, passando per tutte le altre aree nelle quali è presente. Estra crea una nuova figura professionale, il Project Manager del Report di Sostenibilità. Il progetto è stato presentato a Milano all'Istituto per gli studi di politica internazionale. Cresce l'attenzione di Estra all'ambiente, sono infatti aumentate del 110% in un anno le emissioni evitate, da 15.445 a 24.708 tonnellate, grazie alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Estra ha prodotto nel 2017 circa 35.000 kWh di energia elettrica, con un aumento notevole del 270% circa della produzione da fotovoltaico.